Musica Ok guys, eccoci ritornati nella nuova parte di Pokémon Smaraldo L'ultima volta avevamo sconfitto Max, il capo del team Magma E abbiamo preso il Meteorite Adesso possiamo dirigerci a Cordyla Ma state un attimo, non mi ricordo la squadra che... A che... Ecco... Allora, Aron ha... Eh sì, l'Iron, cioè Ha stato uno strumento Bravo Perché? Bravo Adesso sfidiamo un po' questi allenatori Così almeno cerchiamo di far allenare un po' il nostro Querly Yes, I talk... I'm speaking with this accent Non so se dice accento, si dice accent? Vabbè, lasciamo perdere Vai Blazy, Blazy Che... Vai con un doppio calcio Blazy Come on Blazy Hey Blazy Ma non c'è storia Con Blazy Che... Baltoi Fai schifo Perché sei scarso Peggio di te Di Magi... Ah, aspetta di MagiCarp sei scarso Sei più scarso di un... Beh, MagiCarp no È ancora più scarso di tutti il MagiCarp Col, col Col, col Ok, vai, dai, 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 dai Andiamoci via da questa zona E andiamo direttamente nella nuova palestra Beh, direi, dato che la prossima palestra è di tipo Fuego Non è un serve intelligente allenare Aaron Dato che ha solo mosse di tipo acciaio Quindi tanto vale allenare un po' Kirlia Dato che non saranno super efficaci le mosse assolutamente fiquaci Oh, Shroomish Vai Blazy, finiamolo già Aspettiamo tutti gli allenatori Signori, come avete potuto sentire, mi sento anche molto meglio Quindi possiamo riprendere E partire alle grandi E fare magari anche una parte un po' più lunghetta Cercare di arrivare alla palestra Anche potersi anche che riusciamo a sconfiggere tutta la palestra Anche la capopalestra Può darsi, eh Dipende tutto da quanto dura la parte Vediamo un po' Tanto sconfiggiamo questi Pokémon schifosi Schifosi Dai, 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 dai Chi è il Pokémon? Oh, Swablu, Swablu Swablu Vive i Pokémon sempre più frizzanti Magi, cioè, sgaggianti Gara, Kachamon Kachamon Ti Pokémon sono straordinari Metteci avversa Vive i Pokémon Kach, Kach, Gara, Kachamon Questo non sbaglio, me lo registro nel PokéNav Sì, me lo ricordo, signori Me lo ricordo Mi ricordo precisamente chi anche mi registra nel PokéNav Quindi voi rendetevi conto di quante volte io abbia giocato a questo gioco Immaginate voi quante volte ho fatto New Game Potete solo immaginarlo, veramente, signori Shroomish e Magnemite Buono Magnemite Vai, chi voleva pure, vai Guardatele Anche se è un po' scassina Allora, magnetismo Dobbiamo Prima Magnemite Forse mi preoccupo di più E tu Confusion Anzi, calmamente, va Brucialo, brucialo Viva i Pokémon Sempre più frizzanti Magici e sgaggianti Gara, Kachamon Kachamon Vai Aumenta la difesa speciale L'attacco speciale, ovviamente Dai, il parassi seme, bastardo Perché usi quella mossa ridicola Tanto muori al prossimo turno Tuo figlio poteva morire Dai, 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 dai Giù, giù Vai, dai Finiamolo Finiamolo, finiamolo Questo shroomish 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 Dai, dai, dai Veloci, veloci Dai, veloci Diamo Kirlia, non aumentare di livello troppo velocemente Mi raccomando Se no poi ti succede qualcosa Puoi morire Potevi morire anche Ho un altro Ho un altro allenatore Eccolo qui Deve essere l'ultimo Mamma mia Dove bo... Mamma mia che scarsi Non c'è uno zigzagoon Quindi possiamo già immaginare Che squadra di cacca che ha E il prossimo chi è? Un line Ho ho No, un tail of Va bene Via con calcio ordente Kaboom Kaboom Sì, sì, sì Abbiamo rotto il ghiaccio Abbiamo rotto le... Ah, tu hai rotto solamente una cosa Non il ghiaccio Hai rotto... Eh, registrante nel pochino Ave rotto anche quelle Hai rotto anche i cabazisi Allora We are... No, questo non è un allenatore Ma... Va, va, cagliare Non è un allenatore Riposiamo la... Riposiamo le nostre squadre Ok, allora direi signori Dato che ci siamo Ci siamo anche la palestra E facciamo anche la palestra Tantos ce l'abbiamo Abbiamo dei pokemon super omega potenti Possiamo sconfiggere chiunque Dobbiamo solamente arrivarci Dobbiamo arrivare la fiammetta cicogna Quindi... No, no Adesso devo tornare anche indietro Perché ho sbagliato tasto, signore Ho sbagliato tasto Via, via, via Allora Qua se non sbaglio c'è una lotta doppia Vediamo se mi ricordo bene Sì, infatti lotta doppia Mi ricordavo bene Vai, 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 dai, dai Che vi distruggo tutti e due Vlagma e Namel Ok Non so imitare bene il verso di Namel Però va bene Allora tu doppio calcio Tu cosa puoi fare? Fanno sberla, va Cioè con fanno sberla non è che una garanzia, signori Che tolga Massimo 30 PS può togliere se tutto va bene Se no proprio, signori Farà schifo, vai Riduccio la velocità se non erro Beh, diciamo, è andata bene, dai Riduccio la velocità... No, la precisione È il ruolo è mio No, smog su Blazy Bastardo, io ti ammazzo Spacco bottiglie Perché questa potrebbe essere un insulto Vai, coda acciaio, vai Tanto E appunto lo sconfiggiava direttamente E... Blazy Kill le al 23 Yeah Via, 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 via Sì, 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 sì Bla, 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 bla Bla, bla, bla Signori, io farò sentire... Vi doppierò, tra virgolette, i dialoghi Degli allenatori che, diciamo, sono quelli più fondamentali Tipo i capi palestra O i capi del Team Magma O il professor Berch Ver, eccetera, 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 eccetera Però, gli allenatori che troveremo Everywhere, onestamente non me li metto a doppiare Signori, perché perderemo solo tre quarti d'ora per leggere le battute Quindi, no No, 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 no No, 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 no Allora Allora Tu Blazy, doppio calcio su Namele E tu, coda acciaio su Creclean Ogni Pokémon vero si alza nel cielo Cerca battaglia e l'attacco si scaglia Combatte davvero E' un grande guerriero E così vincerà Al suo battle event Solo un Pokémon vero ha un cuore sincero Perciò sarà fiero di averti con sé Più potente di un re Che combatte con te E resiste perché Tu puoi vincere Battle events Forse perché fa parte Della regione Questa Diciamo Sigla Però mi viene sempre Quando gioco a Smeralda Mi viene sempre da Dire da fare questa sigla Signori, veramente Sì, 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 sì Sì, sta cercando di livello stress Fumo un po' E poi gioco a PES Cioè, che cazzo me ne frega Sto lontano dallo stress Fumo un po' Poi gioco a PES Non so se neanche va Il ritmo è così Però mi va bene così Mi va bene così Vai il mio Blazy Guardatelo che figo Guardatelo che figo Blazy Ma che bel Castello Marcondiro Diro Non sto dicendo Cagate Fiammetta Cicogna Non ci sarà Non ci sarà Fiammetta Cicogna Via Verso l'igno Allora, quello di Svesta Mi sembra che un allenatore E mi ricordo bene Mamma mia No, no Non voglio riposarmi Non voglio riposarmi Non mi riposerò mai Voglio solo distruggerti Per poi arrivare La fiammetta Cicogna Uno Slugman solamente Wow I'm so scared Come on Blazy Che ormai sei quasi al 37 E tu Blazy 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 Palestra Facevano la lotta doppia Ossia potremmo Dovemmo giocare Contro due Pokémon Dovemmo fare due Pokémon Contro due Se fosse stata così Già dall'inizio Sin dalla prima volta Sarebbe stata molto meglio Ma noi avevamo la possibilità Di Come Tranne quelli Dalla settima palestra Dalla settima palestra Tell e Pat Appunto che hanno già I Pokémon Cioè facevano Sono in due Quindi facevano La lotta doppia Infatti per quella palestra Dobbiamo prepararci Veramente a fondo Perché sono Delle lente Ci veramente molto forti Con quei Pokémon Che hanno Dobbiamo allenarci Veramente molto duramente Quindi Devo muovermi Devo muovermi Allora Adesso non mi ricordo Neanche che sto andando giusto Quindi signore Potassian Che stia sbagliando No Invece non è già arrivato Però vabbè Prima ovviamente Dobbiamo curare la squadra E poi Dato che ci siamo Dato che siamo già arrivati Signori Facciamo anche la palestra Facciamo la palestra Se non c'entro Pokémon È logico Che voglio fuori Passare la mia squadra Ah non ho fatto una cosa Però non la voglio fare Perché mi scoccia Cambia a mettere i Pokémon Nel box E riprenderli Questa anziana qui Se gli parlate Vi darà un uovo E da quello Uscirà un Wynat Che sarebbe La forma La base Di Wobbuffet Quindi Wobbuffet Quindi Non lo fate Cioè Se volete Allora L'antiscottatura Ci vuole Quanti ne ho 0 Quindi devo prendere Meno 10 Ah Revitalizzazioni Ne voglio Ne posso prendere 9 E ne prendo 4 Super palenti ne ho Dove voglia Allora Quindi Signori Cioè Direi che questa parte è tutto Spero vi sia piaciuta Stavo scherzando Ovviamente Signori Prima facciamo la capopalestra Prima battiamo la capopalestra E poi ce ne andiamo Belli tranquilli Adesso voglio fare tutto il percorso Però che me lo ricordo Spero di ricordarmelo il percorso Signori Meno male che qua gli allenatori Sono già usciti Così mi risparmiano la fatica Eh Noi signori Non è una strada tanto difficile Ormai il percorso Lo Non si sa Voi seguite alla lettera Per chi magari Non lo ha Non ci ha mai giocato Ma Non è un percorso Tanto difficile da fare Molto facile Verisi Quindi Non ci vuole molto Ovviamente qua ci sta la miniatura Signori La miniatura Del miniature Eccola qui Fighissima Perfetto Allora mi hai raggiunto No Aspetta È nato in erba Che bello vedere Che hai trovato la strada Fin qui Aspetta In qualità di No aspetta Sono fiammetta E in queste sede Sono il capopalestra Non osare sottovalutarmi Nonostante sia Capopalestra Solo da poco Con le abilità Ereditate da mio nonno Ti mostrerò Mosse infocate Assai raffinate Hai fatto la linea Adesso sei più figa Di prima Quindi cominciamo La lotta Via Quattro pokemon Vabbè Il Namel Non ci preoccupa Tanto Blazy farà fuori tutti Vai Blazy Come on Blazy Voglio vedere se Line non ha trovato Ho trovato uno strumento E neanche me ne era accorta Però tipo Sarebbe bello Che nel remake di Ore Omega Rubina Zaffiro Alpha Quando magari I pokemon trovano gli strumenti Esce la scritta Appunto Line non ha trovato uno strumento Andare a ritirarlo Andare a prenderlo Vedere cosa Cioè avete capito No Però non lo fa Slugma Via Togliamo di mezzo anche Slugma Via 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 Cioè avete capito Cosa Sarebbe più facile Almeno avete la possibilità Di tirarlo subito Lo strumento Cioè non è che dovete stare Ogni due secondi A controllare Se il pokemon Se il vostro pokemon Con l'abilità raccolta Ha trovato uno strumento Molto più conveniente Secondo me Più comodo Camerapt Oh mamma mia Sta già mandando Camerapt Signori Oh che paura Un Camerapt E che livello è 26 26 Sì mi ricordo bene Vai 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 Vedendo più calcio Eh mamma mia Che schifo Che schifo Potei fare più danni Ah io Dai usa la pozione No non l'ho usato Signori non l'ho usato Ah Ve ne ho dimenticato Non è il Camerapt Il suo più forte È un altro pokemon Il suo più forte È Torkoal Kirial 24 Vai grande Kirial Eccolo qui Torkoal Il pokemon Che ci romperà le palle Qui adesso signori Torkoal Proviamo Vai con il doppio calcio Mamma mia Quanto gli toglie poco Mamma mia No Adesso si son cazzi L'attrazione No Dannata Torkoal Proviamo Noi ci proviamo Signori lo stesso Vediamo cosa fa L'innamoramento impedisce No 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 Aio Io switcho Vai l'ambre Qua che non sacrificare Oh my gold Vediamo un attimo Signori Torno subito Ok Son tornato subitissima Brucia pelo Flash No Ho sbagliato No Oh mamma mia No Vampata no Resisti 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 Non resisto Però L'attacco speciale Che la picco Se non sbaglio Avevo la bacca Che gli facevo tornare L'attacco speciale Eccola qui Me lo ricordavo bene Che avesse L'erba chiara No L'erba chiara Non è una bacca Vai Swallow Swallow E' più veloce Il mio Swallow E in più Facciamo anche il doppio team Va Vai Swallow Vai 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 L'illusione aumentata La luce solare è fortissima E tra un po' si aprirà Vai di nuovo Di nuovo doppio team Vai Swallow Vai 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 Grande Swallow Via Stai esaurendo tutte le vampate Signori Un altro Dai un'altra volta L'illusione Dai 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 Via via Cosa c'è Torco Hai difficoltà A prendere la mira Oh cazzo no L'ha presa stavolta la mira Aio Aio Povero Torco Beh signori Direi di fare un'altra cosa Di mandare Aaron Allo sbaraglio Sì Avete capito bene Aaron Dovrebbe essere Leggermente più veloce Dovrebbe Proviamo con Funko Sberla Mi raccomando Aaron Vabbè Fagli consumare Intanto le attrazioni Ne usate già due Ne dovrebbe avere dieci attrazioni In totale Quindi ne ha altre otto Quindi mi può fare il culo Vai Usa questa Funko Sberla Per favore Aaron Ti voglio bene Grande Aaron Grandissimo Grande Aaron Perché non ha fumo chiaro Me l'ho dimenticato Aaron Per favore Please Bravo Aaron Vediamo con cosa c'è O che fa Ma non ce la fa neanche colpirlo Aaron Aaron Per favore Aio Allora Dato che Ha Poca salute Devi mandare Blesi E fagli il culo con Blesi Va Dato che Potrebbe utilizzare Quella Maledetta Super potion E quindi fare tutto Da capo E sarebbe un po' Allosa Mamma mia signori Ed è andato K Vai Vai Aaron Grandissimo Allora Sei più forte di me Io Sono diventato K Paolo Soltanto Da poco Ho tentato Di misurarmi Con qualcuno Ancora troppo Forte Per me Sono allotto Secondo le mie forze E i miei Pokémon Si confonderanno Grazie per avermelo insegnato Ti regalo Questi segni Di gratitudine E vai E abbiamo ottenuto La quarta Medaglia Con la medaglia Che hanno Tutti i Pokémon Fino a livello 50 Anche quelli ottenuti Da uno scambio Inoltre potete riservare La mossa MN forza Anche fuori dalla lotta Ecco il segno Della mia grittudine Sono felice Di averti conosciuto La macchina tecnica 50 Che è Vampata Infringe un duro colpo All'avversario Ma è lucidisticamente L'attacco speciale Del Pokémon Che lo usa Non è molto adatto A lotte prolungate A meno che non abbiate Appunto come ha usato lei L'erba chiara Però dovete usare Un massimo di una volta O due Per evitare di Cioè perché dopo la prima volta Poi non ho potuto usare Più l'erba chiara Quindi Ovviamente Veget Da quanto tempo Come? Mentre io ero L'eserciente del Mario Tu hai vinto la medaglia Di corti lava Di aver catturato Un bel gruppetto di Pokémon O Quanto meno Ci hai dato dentro Con l'allenamento Eh sì Infatti mi hanno consigliato Di fare un bel po' di allenamento Perché non prendi questo? Grazie Gli occhialoni Così potremo andare a vedere Se riusciamo a trovare Il fossile Con questi occhialoni Non avrei problemi Ad attraversare il deserto Vicino al percorso 111 Ma Wow Veget Sfidare le palestre Ti ti devi così da fare Perché non vuoi perdere con di me Scusate Veget Vorrei sfidare il tuo padre Alla palestra di Petalipoli A presto Sì infatti dovremmo andare a sfidare Il nostro padre Adesso signori Però Vediamo intanto questo è lo strumento È una super potion Vai grande Allora Flash Lui dovrei insegnargli volo Allora Dovrei depositare un Pokémon E questo è una sceltrifici Perché qua Ho un bel po' di Pokémon Direi di depositare l'ambre Al momento Che non mi serve Per fare spazio a Manectric Signora A Electric Perché dovremmo allenarlo in vista Dato che la sesta palestra sarà Di tipo Volante Quindi Dato che è di tipo volante Dovremmo avere un bel po' Di potenza elettrica Quindi Allora Depositiamo l'ambre al momento E poi Sì ho dimenticato di prendere il box Di scoprirlo chi è Però vabbè lo sappiamo Che è di lanetta Quindi lasciamo per Allora Ritiriamo Dove è l'ambra Vediamo se hanno qualche strumento Neanche per il cacchio Vai ritiriamo Electraic E Ok Perfetto Adesso Togliamo il condiviso di esperienza A Chiria E lo diamo A Electraic No perché Dai Eccolo qui Diamo Il condiviso di esperienza Ok Allora signore Direi che per quest'altra parte È tutto Spero vi Sia piaciuta Vi ricordo di votare Commentare Scrive al canale Di mettere il piacere La pagina di facebook Suimi su twitter Di andare su G2A Se volete acquistare giochi Abonamenti Riesci in sconto Nasceremo nella prossima parte Di Pokémon Smeraldo Pensavo ci fosse Tornare Vediamo se è andando un po' Avanti e indietro Controlliamo Cambio Cambio No Riproviamo un paio di volte Signori Per vedere se ritorna Eccola qui signori Quindi ci rivedete Anzi Direi di entrare subito Direi di entrare Subito E di prendere Il fossile Lo prendiamo subito Il fossile signori E poi chiudiamo Qui la parte Va Abbiamo allungato Un po' la parte Via Via Ecco Fatto arrivarci anche da lì Però vabbè No Da qui non si va Ok Ehi Ma che ho fatto Non ero neanche partito Vabbè Vai Ecco qui signori Qui c'erano i due fossili Io ne so già quale scegliere Allora Qui possiamo vedere Abbiamo Vediamo Quelli sono i fossili Allora Il re di fossile No Non voglio Il re di fossile Questo è il fossilunghia Che è quello che mi piace di più Sì Prendo il fossilunghia Che sarebbe Per avere Anoretti Invece con l'altro Avete credili E la torre Miraggio Se ne va Ecco Vedete Si è sgretolata E anche l'altro fossile Si è andato a puttane E va bene signori Il re di fossile Si spende la sabbia Ok Spero vi sia piaciuto Quest'altra parte E noi ci vediamo Nella prossima parte Di Pokémon Smeralda Dove andremo a sfidare Il nostro padre Ci vediamo guys Ciao